Un bel applauso a Juan Melo si presenta a prendere posizione la tifoseria francese e non solo la tifoseria del mondo per questo grande campione transalpino di origine italiana si va a posizionare in tutta tranquillità naturalmente l'atturanza che sta dominando la squadra iniziale se lo può proprio, se non c'è dato in questo momento l'acronome, la Emma, prima e allora mentre si avvicinano ci facciamo sentire siamo pronti per questi grandi campioni arriva anche l'Australia, grande protagonista qui siamo con Daniel Wildner primo in campionato australiano, ma grande protagonista in questa 6-6 2013 e allora la tifoseria sale Antoine va a scremare il sound del suo campione ufficiale classe 3, giù la marcia già vicino in zona partenza gli ultimi secondi, respiro e poi via Antoine, prova speciale, guarda il Domeo sessione 7.41.73 Sì, guarda il Domeo